Ciao a tutti. Io mi chiamo Ugo Maute. Ho un cognome difficile, infatti tutti mi chiamano Ugo, perché è molto corto e soprattutto è molto facile. Sono qui con Elena Spada, che voi non potete vedere perché è al di là del cellulare. Elena è la regista di questo video e lei ed io abbiamo creato insieme un libro per bambini che vorremmo presentarvi. Eccolo. Sam strapazza i bullazzi. Io l'ho scritto, Elena lo ha illustrato e Tomolo e Di Gio lo ha pubblicato. Noi abbiamo incontrato Tomolo e Di Gio nel modo più classico, da autori in cerca di editore. Avevamo spedito il racconto a qualche casa editrice, qualcuna ci aveva anche risposto, ma una sera è arrivata una bella mail da parte di Tomolo, molto simpatica. La mail era simpatica. Sam è stato simpatico a Tomolo e allora abbiamo cominciato a ragionare insieme. E alla fine eccoci qua. Io in realtà scrivo da quando avevo meno di dieci anni e ho conservato la prima cosa che ho scritto, questa. La guerra dei fiammiferi, che racconta la storia dei cerini, che sono quei piccoli fiammiferi fatti di cera, alle prese con dei fiammiferoni antipatici e prepotenti fatti di legno. Da allora non ho mai più smesso di scrivere. E scrivere è la cosa che mi piace di più. Sono anche molto fortunato perché io scrivo per lavoro tutti i giorni, perché sono un creativo pubblicitario e scrivo per la pubblicità. Pubblicità a parte, ho pubblicato due raccolte di poesie, un romanzo e poi su internet su varie antologie e altre cose come altre poesie, racconti e fiabe. Mi piace partecipare ai concorsi letterari. Ogni tanto vinco qualche cosa e c'è di uno a cui sono particolarmente affezionato anche perché è legato a questo evento. Si chiama Racconti nella Rete e io l'ho vinto nel 2017 con un racconto intitolato Sam fa cucù. Perché ci sono tante storie di Sam. Anche per questo Sam strapazza i bullazzi è importante per noi e per Sam. Perché per la prima volta Sam ha un libro tutto suo. Sam, l'avete visto, è un semaforino e fa la vita di tutti i semafori. Sta a un incrocio tra una scuola elementare e un grande giardino pubblico. Con le sue luci regola il traffico delle macchine e il via vai di mamma e bambini. Sam però sa fare un'altra cosa molto speciale e magica. Sam, parla coi bambini e solo i bambini lo capiscono. I grandi non ci riescono. Come fa un semaforo a parlare coi bambini? È una bella domanda ma dovreste farla alla vostra fantasia e sentire cosa vi risponde lei. Perché Sam parla coi bambini? Per aiutarli. Perché oggi i bambini affrontano problemi molto complicati. Il lavoro minorile, il razzismo, il bullismo. E Sam ogni volta cerca di aiutarli usando la sua creatività semaforica. Trova nuovi modi simpatici per usare le sue luci e soprattutto usa il suo grande cuore perché Sam vuole molto bene ai suoi piccoli amici. In questa storia, per esempio, Sam vuole aiutare un bambino che si chiama Angelo che è alle prese con tre ignorantissimi, stupidissimi bullazzi che lo tormentano ogni giorno all'uscita da scuola. Il libro ha le bellissime illustrazioni che nascono dalle magiche mani di Elena. Per esempio, guardate come sono i bullazzi. Che brutta faccia che hanno. E guardate che dispetti che fanno al povero Angelo. Prendono a calci lo zaino, li tirano la maglietta e Sam intanto pensa come fare per dargli una lezioncina. Gli piacerebbe tanto prenderli a semaforate. Il libro è scritto in modo da poter essere letto anche ad alta voce perché è stato pensato per bambini dai 5 ai 9-10 anni ma i più piccoli non sanno ancora leggere o fanno fatica. E allora può essere una bella esperienza per i grandi, i genitori, i nonni, gli insegnanti, condividere il racconto con la lettura ad alta voce. Una lettura che potrebbe avere più o meno questo effetto. Il semaforo, ma molti lo chiamano Sam perché li vogliono bene e anche per fare prima, è molto arrabbiato perché a mezzogiorno, mentre i bambini stavano uscendo da scuola era accaduta una cosa molto 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 brutta. Uno dei bambini era stato messo in mezzo da tre bullazzi, un poco più grandi di lui ma mica tanto. Il bambino si chiama Angelo e assomiglia a quell'idea che ci facciamo tutti di come sia un angelo, biondo, ricciolo e con gli occhi chiari come un limpido laghetto con il fondo di sassolini bianchi, rotondi e puliti e una infinità di pesciolini che schizzano di qua e di là, proprio come fanno i bambini quando sono tutti insieme. Ma torniamo a quello che era successo all'uscita da scuola. Ehi Angioletto, è giù uno spintone. Angioletto di mammina, quando ti fai i codini con quei bei ricciolini? E giù una tirata di capelli così forte da stirare i riccioli e riempire gli occhi di lacrime. Sei ricciolo come una bambina e giù che scende una lacrima e frigni come una bambina. Ora le lacrime sono già un piccolo fiume. La bambina Angela! La bambina Angela! Se volete sapere come farà Sam ad aiutare Angelo, leggete Sam Strapazza i Bullazzi e lo scoprirete. Abbiamo quasi finito, ma desideriamo dirvi ancora una cosa che ci sembra importante. Noi speriamo che questa sia la prima storia di una serie e che ogni volta Sam riesca ad aiutare i bambini sempre usando quel grande cuore, sempre usando simpatia, sorriso, leggerezza, in modo che i bambini capiscono i problemi ma non si spaventano mai e così riescono ad affrontarli meglio. Ci tenevamo a dirvi questo. Siamo veramente arrivati alla fine. Grazie di averci ascoltato. Magari ci troviamo alla prossima presentazione, forse per un'altra storia di Sam. A questo punto Sam, Elena di là del cellulare e Ugo vi dicono ciao e vi ringraziano ancora. A presto, ciao!